Mares vi introduce nella nuova era per il comfort delle maschere. Liquid Skin, la tecnologia esclusiva b-silicone per i subacquei più esigenti. Con l'introduzione di Liquid Skin, il facciale della maschera è realizzato con differenti tipi di silicone. Più duro nella struttura portante e più morbido nelle parti di appoggio sul viso. Le parti in silicone che hanno funzioni strutturali sono il 30% più rigide. La zona in contatto con il viso è il 45% più morbida e il 270% più elastica. Caratteristiche che rendono la maschera molto più confortevole, con una perfetta aderenza e flessibilità. Navigando sul sito www.mares.com potrete approfondire i punti essenziali di questa innovativa tecnologia. L'interfaccia interattiva del sito vi consente di esplorare in ogni dettaglio le maschere Liquid Skin, esaminandone le particolarità. Il silicone extra morbido e extra elastico offre livelli di comfort, tenuta e adattamento inimmaginabili fino ad oggi. La maschera Liquid Skin si adatta automaticamente alla più ampia gamma di visi. I segni sul viso post-immersione diventano un lontano ricordo e la compensazione non è mai stata così facile. La minore deformazione del facciale evita le infiltrazioni di acqua. Grazie al silicone liquido più duro utilizzato per la struttura portante, le maschere Liquid Skin resistono in maniera ideale a sollecitazioni e deformazioni causate da pressione e aggiustamenti. Nuove fibbie ergonomiche posizionate sulla struttura in silicone garantiscono maggiore idrodinamicità, comfort e uso intuitivo. La regolazione è precisa e immediata, anche con due sole dita. Frame ad elevata rigidità torsionale. Garantisce l'ottimo allineamento delle lenti per una qualità ottica superiore. Questo è possibile anche grazie alle fibbie Ergo collegate direttamente al silicone. Le lenti in vetro temperato hanno un design studiato al computer per aumentare al massimo il campo visivo sia verticale che laterale. La tecnologia a vetri separati dà la possibilità di montare lenti ottiche correttive. L'utilizzo di più materiali differenziati permette la realizzazione di una vasta gamma di combinazioni di colori. Liquid Skin La nuova era per il comfort delle maschere La nuova è per 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 la nuova. Grazie a tutti.